Benvenuti nel mondo Gronefeld. Gronefeld è un marchio olandese di orologi di lusso fondato nel 2008 dai fratelli Barthe e Tim Gronefeld. I due fratelli hanno portato avanti la tradizione orologera della famiglia lavorando per alcune delle più prestigiose manifatture svizzere, tra cui Audemars Piguet, Renault et Papi e Christophe Claret. Nel 2008, i fratelli Gronefeld hanno deciso di fondare il proprio marchio di orologi, con l'obiettivo di creare orologi di lusso di altissima qualità, innovativi e rispettosi della tradizione orologera svizzera. I loro orologi sono caratterizzati da una grande attenzione ai dettagli artigianali e all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, realizzati interamente a mano. Il marchio produce principalmente orologi con complicazioni sofisticate, come il tourbillon, il calendario perpetuo e il cronografo flyback, oltre a modelli di orologi sportivi. Tutti i loro orologi sono realizzati in edizioni limitate, il che li rende ancora più esclusivi e ricercati dagli appassionati di orologi di lusso. La produzione artigianale dei suoi orologi, l'attenzione ai dettagli e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia sono solo alcune delle ragioni per cui Gronefeld è così apprezzato dagli appassionati di orologi di lusso in tutto il mondo. La loro attenzione ai dettagli è evidente in ogni aspetto dei loro orologi, dalla scelta dei materiali pregiati alla finitura impeccabile dei componenti e alla precisione del movimento. Uno dei modelli più noti di Gronefeld è il Parallax Tourbillon, un orologio dotato di un tourbillon e una riserva di carica di 72 ore. Grazie alla sua precisione e alla sua complessità, il Parallax Tourbillon è stato premiato con numerosi premi nel mondo dell'orologeria di lusso. In conclusione, Gronefeld è un marchio di orologi che rappresenta l'eccellenza artigianale e tecnologica della Svizzera nel mondo dell'orologeria di alta gamma. La loro produzione artigianale, l'attenzione ai dettagli e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia hanno reso i loro orologi molto apprezzati dagli appassionati di orologi di lusso in tutto il mondo. Grazie a tutti!